La comportanza della festoese è spezzabile, veni all'Arezio? Mi spese, come sempre, spero che domani possiamo fare una partita diversa, non c'è da fare tante chiacchiere, a parte le chiacchiere secondo me non sono mai state fatte neanche a bambino, assolutamente, c'è sempre stata la disponibilità a parlare di calcio in era seria e professionale, molto professionale, ma era molto anche seria, le chiacchiere non sono state fatte per nessuna barbara, purtroppo i risultati sono negativi e spero domani di invertire questa tendenza. Dovete vedere il giocchio di San Martino? Lì giocherà uno tra San Martino e Don Don, uno dei due ragazzi, laterale, hanno giocato tutti e due possano giocare, uno dei due domani giocherà. Quindi la linea centrale, sempre di Bari-Basini oppure uno tra i Falsini? Sì, di Bari-Basini-Falasco e uno tra San Martino e Don Don. E Don Don? Uno dei due. E stasso-destro? Sì, San Martino ha giocato nella Roma e Don Don ha giocato anche loro, quindi uno dei due domani è molto. Do fiduciare uno dei due ragazzi, lo dato a tanti, lo dato anche a due ragazzi che sono ragazzi seri e che fino ad ora hanno avuto poca possibilità di giocare, però sono ragazzi che ci tengano a questa maglia. Ti senti un po', tra virgolette, tradito da qualcuno dei giocatori che non ha reso secondo le tue prospettive? No, tradito assolutamente da nessuno. Non mi sento tradito da nessuno. Secondo me questa squadra ha fatto... potrebbe fare di più, però fin da conto i risultati che ora sono stati negativi, io dalle chance l'ho date a tanti, questo si è chiaro. Forza troppo. Quindi è di più che è una gara qui, bene. Tadei quindi out? Tadei out, non è neanche nei 18, problemi davanti alla punta del piede, speriamo non li recuperano per terra o male, è lunga. Al suo posto c'è un'era Petricione, che anche lui ha lasciato importante di confermarsi, visto che ultimamente ha avuto anche diversa continuità. Petricione da monte passare in centro? No, forse Petricione da monte sopra lo 5, vediamo un attimino, dopo con la punta solo, questo è che sia chiaro. Merini può entrare solo a partita in corso, con un attimo infiammatorio. Fa sta facendo dei grossi sacrifici, però purtroppo la sua situazione è...